In questo video voglio parlarvi di una delle più antiche tecniche di modellazione manuale presente in tutte le culture del mondo che è il colombino o lucignolo. Vediamo un poco di cosa si tratta. Allora, per prima cosa ho preparato una lastra e l'ho poggiata su una basetta di legno. Adesso la poggio sul torniello da decorazione per creare la nostra base e quindi spingiamo il torniello e teniamo ferma in questo modo una punta per disegnare una circonferenza. Adesso tagliamo la circonferenza, aiutiamoci con un coltellino, in questo modo qua, ruotiamo. Tagliamo via l'eccesso e voilà, la nostra base è pronta. Adesso iniziamo a fare i nostri colombini, quindi prendiamo un poco di argilla e iniziamo a stenderli in questo modo qui. Iniziamo a spingere. E più o meno dobbiamo raggiungere lo stesso spessore della nostra base, quindi assottigliamo ancora un po'. Una volta che abbiamo creato i nostri primi colombini possiamo prendere il primo e gli altri li possiamo mettere da parte. Adesso siamo pronti ad unire il primo colombino alla base. Questo è importantissimo. Ogni volta che vogliamo unire un colombino alla base o un colombino sull'altro dobbiamo fare per forza queste operazioni. Con una spatolina seghettata andiamo a incidere i bordi della nostra base, incidiamo anche il colombino che andremo a utilizzare e spennelliamo della barbottina, che non è altro che argilla sciolta in acqua, sulla base, lì dove abbiamo fatto le scalanature. Questa operazione serve per cementare perfettamente il colombino alla base. Prendiamo il nostro colombino, lo appoggiamo sulla base, ruotiamo e schiacciamo lievemente. Quando il colombino arriva vicino all'altro che facciamo? Tagliamo, spezziamo il colombino e lo incolliamo sull'altro. e facciamo una leggera pressione con le dita in questo modo per far sì che il colombino rimanga attaccato perfettamente alla base e procediamo con un altro colombino. Quindi graffiamo il nostro colombino qui sull'oggetto, graffiamo il colombino che vogliamo utilizzare, spennelliamo la barbottina sul colombino appena appoggiato, né poca né troppo poca, prendiamo il colombino dalla parte delle righe, lì dove combaciano, spezziamo, uniamo in questo modo qui, spingiamo lievemente e ripetiamo l'operazione per i prossimi colombini. Quando siamo arrivati ad unire 3-4 colombini un consiglio che vi do è quello di fermarci un attimo, saldare meglio i colombini l'uno all'altro in modo che in fase di cottura o di asciugatura non si rompano, non si stacchino l'uno con l'altro. Quindi un consiglio che vi do è quello di livellare in questo modo, con il dito, in questo modo quindi unire i vari colombini l'uno con l'altro, saldarli l'uno con l'altro, sia dall'esterno e sia dall'interno. Dall'interno vi potete aiutare con una spatola di legno. Una volta che abbiamo finito questa fase, diciamo, di saldatura dei colombini, quello che possiamo fare è assottigliare le pareti stringendole con le mani, partendo dal basso e pian piano, girando la torniella, andare verso l'alto. Una volta che ho finito di levigare il mio oggetto e voglio renderlo più alto ancora, quello che devo fare chiaramente è aggiungere altri colombini. Quindi ho preparato altri colombini e adesso li vado ad aggiungere sopra nel solito modo. Una volta che sono arrivato all'altezza desiderata e ho dato una prima levigatura grossolana, quello che voglio fare è pareggiare il bordo. Quindi che faccio? Metto l'oggetto al centro del tornio, qui, prendo una punta, faccio girare velocemente il tornio e disegno una linea sul mio oggetto. Fermo il tornio, prendo una lama, faccio una piccola incisione e inizio a tagliare seguendo la linea che ho creato prima. Spingo l'oggetto che fa muovere il torniello, in questo modo qua. Adesso che ho pareggiato il mio bordo posso passare alle decorazioni. Siccome questo voglio che sia un portapiante da appendere, comincio facendo gli tre buchi per passare i fili per poterlo appendere. Faccio il primo foro, in questo modo qui, il secondo. ed il terzo. E infine con la spatolina che abbiamo usato per graffiare i nostri colombini faccio una semplice decorazione, dei semplici graffi su tutta la circonferenza di questo oggetto. Una volta che ho finito la decorazione non mi resta che tagliare il mio oggetto, cioè passare il filo di nylon sotto l'oggetto in modo che si stacchi dalla basetta di legno. Voilà, in questo modo qui. E il nostro vaso al colombino è fatto. Come al solito nella descrizione di questo video vi lascio un po' di link, soprattutto sugli strumenti che abbiamo utilizzato oggi per lavorare al colombino. E come al solito se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Peace!